Francesco Rucco ha visto i nostri servizi, ha visto il fuoco incrociato che si è scatenato contro il candidato Fabio Mantovani da parte proprio dei partiti che dovrebbero sostenerlo, cioè Forza Italia e Lega. Ci sono dei generalissimi di questi partiti che le hanno strizzato l'occhio, non so se se ne è accorto. Ho visto i servizi di Rete Veneta e devo dire che non voglio entrare nelle dinamiche dei partiti di coalizione Forza Italia e Lega. Ritengo però quanto mai necessario e condivido la necessità di un incontro tra tutte le forze politiche e civiche, un incontro che proponiamo anche noi, di fare quanto prima, affinché si condivida un progetto civico che noi presentiamo, che abbiamo presentato nei mesi scorsi e col quale riteniamo di poter andare dritti al ballottaggio. Riteniamo infatti che siano più importanti le persone dei simboli. I simboli sono chiaramente un elemento essenziale ma non determinante per la vittoria finale. Le persone faranno la differenza a Vicenza e io sono convinto che con questa squadra, tutti uniti, porteremo a casa l'amministrazione e vinceremo le prossime elezioni. Quindi lei invita tutto il centro-destra a unirsi al suo progetto? Io invito al tavolo tutto il centro-destra ad unirsi, stare compatti, condividere le battaglie di questi anni insieme e continuare a farlo anche per i prossimi dieci anni. Quindi è pronto a contattare anche Forza Italia e Lega? Mi farò promotore del tavolo contattando sia Lega che Forza Italia, ripeto, persone con cui abbiamo lavorato in questi anni, persone al di là dei simboli.